Un appello che abbiamo fatto in tempi non sospetti è anche in sinergia con tutti gli altri enti di promozione sportiva. Abbiamo fatto più appelli, ma adesso siamo veramente arrivati a una situazione estrema. Contiamo che stiamo parlando di un settore che si occupa della salute delle persone e che rischia letteralmente di chiudere. E parlo di, solo nella provincia Pesaro-Urbino, di 800 associazioni sportive e direttantistiche affiliate ad un ente di promozione sportiva, non solo chiaramente alla WISP. Qual è lo scenario più verosimile che possiamo aspettarci nei prossimi mesi? Allenamenti senza docce, con illuminazione ridotta, poco riscaldamento? Eh beh, sai, si farà di tutto per sopravvivere. Io penso che questo sarà lo scenario. Chi riuscirà a sopravvivere? Abbiamo notizie di piscine che stanno già chiudendo le piscine perché sono notoriamente gli impianti sportivi più energivori. Però non se la passeranno sicuramente bene nemmeno le scuole di danza come questa dove siamo adesso, le scuole di pattinaggio. Beh, insomma, per usare un termine, tutte le palestre che ci sono sul territorio nazionale. Dal governo, dalle istituzioni serve un'attenzione proprio per il valore dello sport, soprattutto questo dello sport di base? Assolutamente sì. E questo lo diciamo da sempre. Ricordiamoci che dietro gli ori olimpici ci sono palestre come questa in cui siamo adesso, dove le persone hanno iniziato e continuano ad allenarsi. Il problema è che in Italia si sta verificando una cosa abbastanza sgradevole, ovvero uno sport di serie A, che è quello delle federazioni, e uno sport di serie B, che è quello degli enti di promozione sportiva, che sembra sia quantomeno sacrificabile. Gli esempi ne abbiamo purtroppo. Ci ricordiamo quanto in zona rossa alle associazioni inerenti alle federazioni era permesso di allenarsi, mentre invece alle associazioni affiliate con gli enti di promozione sportiva era proibito. Ci ricordiamo quando, a proposito del PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulle infrastrutture, è stato completamente omesso gli enti di promozione sportiva qualsiasi, quindi non siamo stati messi in condizione di segnalare strutture, mentre invece è cosa che è stata permessa alle federazioni. E in ultimo, notizia di pochissimo tempo fa, questi famosi 53 milioni di euro destinati allo sport, per i quali abbiamo anche gioito, perché è comunque un aiuto concreto, salvo poi accorgerci che le associazioni per usufruire di questo finanziamento, se affiliate ad una federazione dovevano contare un numero di 30 tesserati, se affiliati ad un ente di promozione sportiva ne dovevano contare invece 200. Quindi capisci, una situazione totalmente iniqua e non si capisce perché.